ciao a tutti ragazzi allora oggi sarà un video update quindi video aggiornamento creazioni diciamo che siccome appunto si sta avvicinando San Valentino mi sono ispirata appunto a questa festività tra virgolette quindi inizio a farvi vedere questa collana che tra l'altro ve l'avevo messa anche come foto su Instagram è una collana questo è filo di... ecco ho messo un po' di luce in più allora questo è filo quello di raso che si chiama di coda di topo è a girocollo e questo è il ciondolino ok così davanti e dietro fatto in questa maniera qua praticamente la base di questo ciondolo che adesso se sentite è duro sembra quasi plastica non è che le vaschette quelle che buttiamo delle verdure in polistirolo io ho fatto quindi la base praticamente di quello poi l'ho ricoperto con della carta... della carta velina rossa ho fatto... mi sembra un... due o tre strati e una volta che si è asciugato ci ho messo appunto... l'ho bagnato un po' con... con l'acrilico dorato e questo è l'effetto purtroppo con questa ripresa non si prende bene ma il mio tre piedi per il cellulare è morto si è rotto e quindi devo acquistarmene un altro quindi per il momento mi dispiace non si riesce a vedere bene diciamo con questa ripresa perché non mette a fuoco bene infatti non mi piace tanto la ripresa così e niente questo è il ciondolo appunto in questione poi ovviamente è stato lucidato e quindi adesso sembra... sembra un ciondolo di plastica invece la base è in polistirolo ok... sempre con la stessa tecnica quindi sempre prendendo la base dal polistirolo ho fatto questi orecchini spero che si vedono bene ho fatto sempre la stessa cosa solo che l'acrilico invece di spargerlo su tutto il ciondolo come ho fatto qui l'ho messo solo nei contorni e appena appena qui infatti qui l'ho fatto con il dito proprio per avere questo effetto che sinceramente mi piace molto di più cerco di tenermelo fermo per farvi vedere almeno com'è ok... questo è davanti e dietro è in questa maniera qui si vede solamente il rosso e il lucido perché appunto l'ho fatto nel fianco e leggermente qua che poi questi qui sono gli orecchini dalla parte davanti e quindi questi appunto sono stati fatti con la stessa tecnica della base in polistirolo siccome appunto ho messo il dorato intorno ho deciso di mettere sia l'anellino che la monachella dorata mi sembrava che ci stessero meglio ecco poi ho fatto questi orecchini per una persona che me li ha chiesti in paper tier con la tecnica appunto paper tier e nel momento in cui mi doveva pagare non si è più fatta sentire quindi ho perso una giornata quasi e mezza di tempo per niente ma fa niente ho fatto questi orecchini in questo modo qua qui c'è praticamente il logo e la scritta dell'azienda di dove lavora lei che è la Unique che è un'azienda cosmetica tra l'altro ci lavora anche mia madre qui quindi credo che li regalerò a lei e poi sotto per riprendere il bianco del logo e della scritta e con il fatto che comunque è mezzo anche bianco ho messo questo pompon bianco ovviamente sono fatti sia davanti che dietro sapete che io li faccio in tutti e due i lati perché non mi piace cioè l'orecchino comunque va e non sta fermo solo in una parte e si vede anche la parte dietro quindi io tendo a curare sia la parte davanti che la parte dietro ok dopo questo mi sono dati i miei amati vasetti siccome ne avevo una caterva messi da parte mio marito mi stava tirando qualcosa dietro perché mi diceva elimina un po' di vasetti perché non ce la faccio più allora mi sono data appunto i miei vasetti allora questo non l'ho terminato perché tanto lo tengo per me è stato un primo esperimento dove volevo fare appunto dei cuoricini ma ho sbagliato tecnica nel fare i cuoricini infatti gli altri sono venuti tutti molto meglio con la tecnica che ho fatto dopo c'è nel senso avendo la fustella questa qui cosa ho fatto? ho preso un pezzo di cartoncino che non mi serveva l'ho bucato quindi ho fatto la forma del cuore e quella forma del cuore l'ho usata come stencil quindi ho messo qui lo stencil l'ho bagnato di colla vinilica e ci ho buttato sopra i glitter però ho sbagliato perché dovevo toglierlo subito come ho fatto poi con gli altri successivi e invece l'ho tenuto l'ho tenuto sopra quindi nel momento in cui quando si è andato ad asciugare e io ho tolto tutto non è venuto granché cioè non mi piace come lavoro non è un lavoro pulito e comunque questo tanto lo devo tenere per me comunque la base l'ho fatta con colla vinilica una puntina di acrilico argento che gli dà appunto il colore argento e glitterini argento ho mescolato il tutto con una goccia proprio ma una goccia d'acqua ho mescolato il tutto e gli ho dato tre passate quindi ho fatto la prima mano l'ho lasciato asciugare la seconda l'ho lasciato asciugare e gli ho dato la terza che era l'ultima dopodiché ho fatto questa cosa con il cuoricino che ho usato da stencil e appunto ho fatto tutti i vari cuoricini questo è il primo che ho fatto che non è venuto granché il secondo che è venuto molto meglio infatti poi l'ho anche terminato mettendogli appunto vedete questo cordoncino di cotone intorno vedete che i cuoricini si vedono molto meglio sono fatti meglio questo sinceramente mi piace molto di più e questo è un altro vasetto che si verrà ad utilizzare come tipo portapenne queste cose qua insomma invece vasetto poi ci tengo a dire che io li completo e li faccio anche sotto anche questo è stato fatto alla stessa maniera tutti sono stati fatti così perché non mi piace lasciare il vetro sotto poi il primo portacandelini gli altri sono tutti portacandelini con un vasetto leggermente più grande ma comunque piccolino è questo e questo l'ho voluto fare sul rosso al rosso amore e quindi ci ho messo appunto questo nastrino di carta di quello che vi ho fatto vedere dai cinesi appunto rosso per riprendere i cuoricini rossi in effetti qui mi sembra che è venuto meglio perché i glitter sono quelli più fini fini rispetto a quei due che vi ho fatto vedere prima che sono molto più grossolani i glitter e ho notato che con i glitter appunto più fini viene molto meglio la forma del cuoricino quindi ho fatto vedete questa cosa qua e questo è il primo portacandelina non ho ancora messo dentro la candelina però sarà un portacandelina poi gli altri sono quelli piccolini dei vasetti degli omogenizzati che mi erano rimasti dei miei bambini che adesso non mangiano più io li ho appunto lavati e me li sono messi da parte perché mi piace molto ma molto di più lavorare con questi vasetti qua vedete che qua è più grosso il cuoricino qui ne ho fatto solo uno vedete l'ho fatto solo davanti perché appunto il vasetto è piccolino mi sembrava troppo pacchiano riempirli di cuori e quindi ne ho fatto solo uno e ho messo appunto il fiocchetto sempre carta sempre di quelli che ho preso dai cinesi queste carta il nastrino e niente ho fatto questo sempre anche sotto poi ho fatto la versione viola questo però è quello di cotone allora tutti i nastrini che voi vedete intorno sono tutti di carta tranne questo qui viola che di cotone quindi questo e questo qua perché sono gli unici due che in carta non c'erano e quindi li ho messi di cotone col filo di cotone questo poi ho fatto questo sull'azzurrino e vedete che i glitter essendo più fini viene molto meglio la lavorazione la forma del cuoricino si vede molto meglio questo e ultimo che mi piace molto anche lui sul verde adesso non so se fare qualche altro colore devo vedere i glitter che ho se fare qualche altro colore perché comunque di di vasetti ne ho quindi così almeno mio marito mi ringrazia che gli libero un po' lo libero un po' da tutti questi vasetti e niente cosa dirvi io spero che le mie creazioni vi siano piaciute vi ricordo che sono sempre in vendita quindi se avete bisogno di qualsiasi tipo di informazioni mi potete contattare tramite messaggio su instagram perché appunto lì mi arrivano le notifiche e quindi riesco riesco a rispondervi mentre se andate sulla pagina facebook non mi arrivano le notifiche rischiate di lasciare il messaggio e poi magari io o non lo vedo o lo vedo chissà quando scusate e niente visto che siamo a 11 minuti e 45 io direi che vi lascio spero di avervi fatto un po' di compagnia vi mando un bacio grande ci vediamo ad un prossimo video ciao